Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove per lavori si segnalano un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno e rallentamenti tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Per questi lavori l'entrata di Empoli Est è chiusa in direzione Firenze. Un chilometro di coda per lavori tra Santa Croce sull'Arno e San Mignato in direzione Firenze. In A1 verso Bologna rallentamenti per veicolo fermo tra Firenze e Badia. Per lo stesso motivo ci sono rallentamenti in direzione Roma tra Albivio con la variante di Vali con la Quercia e Firenzeola. Ancora verso Roma incidente al chilometro 279 tra Calenzano e Firenze Nord. Incidente anche in uscita a Firenze Sud provenendo da entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!